Siete pronti? Almeno non me ne sento più! Via! Via! Mamma mia! Aumica è una gita, è una gara eh! Primo gita, giro compatti. Stanno ancora tutti in gruppo eh! Primo chilometro sta qua giù, sarà sotto i quattro ma non di molto. Ancora lenti, ancora lenti! Il passaggio è a 3.49, Geki passa adesso 3.52 insieme a Roberto Trivelli, ecco De Angelis 3.58, Antonio Trabucco è staccato, non c'è più il Trabucco di una volta eh! Una foto al grande Trabucco Che passa in 4.15 Tre giri, un chilometro e mezzo, il primo gruppetto si stacca Una cinquantina di metri, tra il secondo gruppetto che si sta sgranando Si inizia a fare selezione Ricordiamo un chilometro e mezzo Terzo giro Coda del gruppo Ancora selezione, secondo chilometro, siamo sui 7.20, 7.25 Ancora selezione, secondo chilometro, siamo sui 7.20, 7.25 La selezione si vede La selezione si vede Questa del gruppo Due chilometro e mezzo Angelo Giuliani in testa Presidente! 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 Va, Jackie! Ed ecco il grande Trump! Guardatelo, guardatelo! Aspetta! Oh grande, vecchio! Che figlio hai fatto quello? Ammazza! Angelo! Mi credevo che ci chiederà faceva di prenderlo ma guarda che perfezione le costa che spremuta te li muo' vince la categoria eppure la gara Angelo Giuliani si mette Oscar quando fate foto Angelo Categoria eppure